Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. A volte il matrimonio non è una promessa di amore eterno, ma il tetro presagio di una tragedia annunciata. Il protagonista del caso di oggi, Malcolm Webster, nasce il 18 aprile 1959 e cresce a Guildford, capoluogo della contea del Surrey nel sud-est dell'Inghilterra. Malcolm ha un fratello maggiore di nome Ian e una sorella gemella di nome Caroline. Sua madre Odette lavora come agente di polizia per un breve periodo, poi inizia a svolgere la professione di infermiera. Suo padre Alexander è un sovrintendente capo investigativo della polizia metropolitana di Londra, un ruolo di alto livello che gli conferisce un potere notevole e sarà importante per le dinamiche di questo caso. Alexander è un uomo duro e severo, esige il rispetto della disciplina e Malcolm non ha vita facile in casa con lui. In realtà entrambi i suoi genitori sono freddi e distaccati, evitano di mostrarsi affettuosi con i bambini. Il padre di Malcolm sottolinea sempre i difetti dei figli, vuole che i pasti a tavola vengano consumati nel silenzio. Infatti ai bambini è permesso di parlare solo se Alexander chiede loro qualcosa, ma è raro che gli rivolga delle domande. A rendere la situazione di Malcolm ancora più difficile è la consapevolezza di essere il figlio meno amato fra i tre. Caroline e Ian ogni tanto ricevono elogi, ma Malcolm non si è mai aggiudicato un complimento, anzi per i suoi genitori è una delusione, se non un fallimento. Il padre di Malcolm inoltre ha un'abitudine davvero strana e sconveniente per i suoi familiari. Quando deve andare in bagno, tutti i presenti in casa devono uscire, non importa se piove, se c'è una tempesta di neve, se è notte inoltrata. Quando Death vede Alexander entrare in bagno, raccoglie i tre figli e li porta fuori di casa. Se è notte, dunque lei sta dormendo, ci pensa il marito a svegliarla. Anche a scuola Malcolm non se la passa alla grande, viene descritto come un tipo strano, un po' solitario. Non ha molti amici, ma cerca di attirare l'attenzione, cosa che non mi stupisce visto che a casa stento viene calcolato. Il problema è che per farsi notare Malcolm è solito incendiare qualcosa a scuola, o anche a casa. A soli sette anni è già ossessionato dal fuoco e tutti lo sanno perché non lo nasconde. Il secondo modo in cui Malcolm prova ad attirare l'attenzione a scuola è fingere continuamente di avere delle malattie. Lo fa anche per sfuggire alle attività che non vuole svolgere. Probabilmente in tanti da bambini qualche volta abbiamo finto di non sentirci bene pur di scampare a un'interrogazione, ma Malcolm porta la situazione all'estremo. Ogni giorno accusa un dolore diverso e finisce con l'adottare questo comportamento anche a casa. Se Alexander e Odette gli chiedono di sbrigare qualche lavoretto, Malcolm inventa di avere il mal di testa o la nausea. Se un insegnante gli fa una domanda che lui considera difficile, Malcolm finge di svenire. Io lo immagino onestamente che si guarda intorno e poi si butta a terra e questa immagine mi fa alquanto divertire. Quanto alle patologie che si attribuisce, passa dal definirsi dislestico fino a raccontare di avere un tumore al cervello, solo per il gusto di vedere le reazioni dei suoi compagni. All'età di 15 anni Malcolm lascia la scuola e si cimente in diversi lavori finché decide di invocare la carriera che considera più giusta per lui, quella di infermiere. Trova un primo impiego in una casa di cura per anziani dove, non molto tempo dopo la sua assunzione, cominciano a sparire soldi, piccoli ninnoli, gioielli, tra cui un anello di diamanti. Scommetto che avete intuito l'identità del ladro. È proprio Malcolm che infatti è solito rubacchiare da quando era bambino, ma suo padre, che ricopre un ruolo di prestigio nelle forze di polizia, lo tira sempre fuori dai guai. Ogni volta che Malcolm telefona ad Alexander gli dice, papi sono nei guai, puoi sistemare la situazione. Ma cosa fa Malcolm con gli oggetti rubati? Li rivende, sì, ma per acquistare poi altre cose totalmente a caso. Entra nei negozi e spende tutti i soldi che ha in tasca senza senso, pare sia affetto pure da una dipendenza dall'acquisto. In una occasione ha comprato degli orologi antichi ma poi li ha dimenticati in un cassetto. Malcolm, che non è in grado di gestire i soldi, è evidente, contrai parecchi debiti. Si presenta come una persona ricca e fa spese inopportune da Harrods, il noto centro commerciale di lusso di Londra, per poi trovarsi con le tasche vuote. Grazie al ricavato ottenuto dalla vendita dell'anello di diamanti rubato nella casa di riposo, compra dei vinili e delle mazze da golf. Uno sport che non ha mai praticato in vita sua. Ma cosa pensano le persone che entrano in contatto con lui? Beh, lo descrivono come un giovane di bell'aspetto e molto affascinante. Infatti Malcolm mente proprio per affabulare le donne che incontra. Costruisce una personalità fittizia che non lo rispecchia davvero, cerca ancora attenzioni impietosendole con malattie inventate e impara a giocare con le loro emozioni. Cambia tattica a seconda della donna con cui entra in contatto, ne studia i punti deboli e li usa per manipolarle. Quando Malcolm ha 17 anni si mette insieme alla figlia del suo capo, che ne ha 15. Durante la loro breve relazione la ragazza rimane incinta e Malcolm la costringe ad abortire. Lei in realtà rimane profondamente segnata da questa esperienza. Per anni si sentirà perseguitata dal senso di colpa, anche perché non ha potuto raccontare a nessuno di essere in dolce attesa e di aver abortito. Malcolm non si interessa mai al suo stato d'animo, anzi presto si dimentica di lei e va avanti con la sua vita. Poco dopo si mette insieme un'altra ragazza, ma anche questa storia non dura. A seguito della rottura lei purtroppo si toglie la vita. Quando compie 20 anni, Malcolm comincia a viaggiare tanto, visita la Nuova Zelanda, l'Australia e il Medio Oriente, prima di stabilirsi ad Abu Dhabi per intraprendere un lavoro da infermiere in un ospedale pediatrico. Malcolm è molto soddisfatto, ma nell'istituto cominciano a verificarsi dei decessi sospetti. In un brevissimo lasso di tempo, tre bambini, tutti sotto i sei anni di età, vengono a mancare a causa di un arresto cardiaco, un fattore estremamente raro in pazienti così giovani. Questa catena di decessi non può essere una coincidenza, quindi viene aperta una piccola indagine ed emerge che tutti e tre i bambini erano affidati alle cure di Malcolm, che viene quindi licenziato immediatamente. Tuttavia la polizia fatica a costruire un caso contro di lui, a dimostrare che è il colpevole di queste morti. Come al solito, Malcolm coinvolge il padre, che fa qualche telefonata ai suoi amici dei piani alti, e riesce a riportare il figlio nel Regno Unito. È opinione di molti che Malcolm abbia commesso i suoi primi omicidi in quell'ospedale pediatrico, facendola franca. Ancora oggi non è chiaro cosa sia successo nell'istituto, ma si presume che Malcolm avesse iniettato ai piccoli pazienti delle quantità eccessive di insulina. Quando Malcolm torna nel Regno Unito ha ormai 30 anni. È il 1991 e incontra una donna di nome Claire Morris. Claire ha 29 anni e cresciuta nella contia del Kent, ha avuto un'infanzia stabile e ora sta studiando per diventare infermiera a Londra. Non si è mai innamorata davvero fino ad ora, ma Malcolm riesce a conquistarla mettendo in azione la sua personalità affascinante, la fa ridere, la fa sentire al sicuro e a suo agio. Come ormai immaginerete, Malcolm non è realmente l'uomo che Claire è convinta di aver conosciuto. Ma lui sa vendersi bene come un gioiello scintillante, quindi lei comincia presto ad amarlo. La loro storia brucia di passione e brucia anche le tappe. In breve tempo i due si fidanzano ufficialmente e si sposano durante un'incantevole cerimonia ad Aberdeen, in Scozia. Malcolm sembra davvero innamorato, rivolge alla sua sposa un discorso scandito dalla dolcezza e dalla premura. Poi, dopo le nozze, la coppia si stabilisce proprio ad Aberdeen, come detto, in Scozia. Malcolm a questo punto spiega a Claire che quello è l'unico posto in cui può trovare lavoro. Affermazioni di cui non comprendo le ragioni, in ogni caso il suo fine è un altro. Isolare Claire dalla sua famiglia e dai suoi amici. Inizialmente la moglie non trova sospetta la scelta di Malcolm, inoltre lei ama follemente la Scozia. Entrambi in effetti riescono a trovare un lavoro come infermiere da Aberdeen, ma vivono in una zona piuttosto remota, non conoscono nessuno, dunque sono soli. È a questo punto che Malcolm inizia a mostrare il suo vero volto. Ora che è riuscito a immarginare Claire completamente. Come ricorderete, Malcolm non sa gestire i soldi con assennatezza e acquista cose inutili in modo compulsivo, ma finora era riuscito a nasconderlo a Claire. Tuttavia, ora che vivono insieme, la moglie scopre la sua dipendenza. I soldi nei loro conti correnti sembrano dissolversi come bolle di sapone. I coniugi fanno fatica a pagare le bollette e contraggono debiti. Claire chiaramente si sta stufando, perché il problema si protrae nel tempo, così affronta Malcolm, ma lui la ignora. Anzi, per farsi perdonare, esce e va a comprarle dei regali molto carini e costosi. Claire, quando lui rientra, lo rimproverà ancora di sperperare soldi in giro e lui, stavolta, ne approfitta per aggredirla e accusarla di essere un'ingrata. E alla fine, Claire puntualmente si sente in colpa, inizia a mettere in dubbio se stessa, si domanda se, per caso, non sia lei quella che sbaglia. Forse è davvero un'ingrata? Forse è lei che si comporta male con suo marito? Nonostante sia pervasa da questi dubbi, lei non può consentire a Malcolm di portarla sul lastrico, quindi continua a lamentarsi con il risultato che le liti sono sempre più frequenti. È a questo punto che Malcolm inizia a pensare a un'alternativa per tenerla zitta e buona, visto che i saltuari regalini Claire non le gradisce più. Dopo un po' che sono cominciate le discussioni sui problemi finanziari, Claire inizia a soffrire di una serie di sintomi mai accusati. Da un giorno all'altro si sente stanchissima, privata di ogni energia e persino le attività più banali le risultano difficoltose. L'unica cosa che riesce a fare è dormire, sia di giorno che di notte, così smette di andare a lavoro. Claire è preoccupata, non capisce ciò che le sta accadendo e ne parla con Malcolm, visto che pure lui è un'infermiere. Lei giustamente vorrebbe farsi visitare da un dottore e sottoporsi a qualche esame per individuare l'origine del problema. Ma Malcolm è profondamente contrario all'idea. Lei dice che non ha bisogno di andare dal medico, è solo stata colpita da un virus passeggero. Scommetto che nemmeno voi ci credete. Infatti Claire è spostata perché Malcolm le sta somministrando degli psicofarmaci. È questa la soluzione che lui ha individuato per indebolirla, impedendole così anche di discutere dei loro problemi finanziari. Malcolm le mette del diazepam e del temazepam nella tazza da cui sua moglie beve il tè. Il primo è una benzodiazepina, dunque ha proprietà ansiolitiche e sedative, mentre il secondo è un farmaco ipnotico che si impiega per trattare l'insonnia. Dunque Claire, assumendoli, è costantemente assonnata e confusa su ciò che accade davanti ai suoi occhi. Non ha la lucidità e la forza di affrontare Malcolm, che si sente libero di spendere e spandere a profusione, come preferisce. Ogni tanto Claire prova a chiedergli di portarla da un dottore, ma Malcolm continua a dire, no no, è solo un virus, bevi una tazza di tè, ti farà sentire meglio. Dopodiché cambia subito argomento. Un tè dopo l'altro, la spostatezza di Claire aumenta e lei cede al sonno sempre di più. Ora però basta. La donna comincia a insistere sulla sua esigenza di consultare un dottore. Ha bisogno di fare degli esami del sangue per capire cosa le sta succedendo. Non ce la fa più a vivere in simili condizioni. Questi sintomi si manifestano ormai da mesi e mesi e la sua esistenza è alla deriva. Claire si sente inutile e triste perché non riesce davvero a fare niente, neanche le pulizie in casa. Malcolm sa benissimo che un esame del sangue rivelerebbe la presenza di diazepam e temazepam nell'organismo di sua moglie e non può permettere che questo accada. Quindi scogita un piano spietato per risolvere due dei suoi problemi più grandi. Liberarsi dei debiti e impedire a chiunque vuoi di scoprire che sta danneggiando la salute di Claire somministrandole degli psicofarmaci a sua insaputa. Quando capisce che sua moglie è irremovibile e che sarebbe andata a farsi visitare anche a costo di strisciare per terra, Malcolm inizia a stipulare diverse polizze assicurative sulla vita di Claire, arrivando a sottoscrivere 12 contratti. Il passo successivo di Malcolm è crudele, quanto ormai immaginabile. Uccidere sua moglie. Nella sera del 27 maggio 1994, come al solito, Malcolm prepara a Claire una tazza di tè con all'interno i farmaci destabilizzanti. Poi, verso mezzanotte, la carica in macchina, recupera una grossa tannica di benzina e porta sua moglie in una remota strada di campagna, piena di curve. Una di queste si rivela particolarmente stretta. Malcolm non riesce a girare il volante e l'automobile balza fuoristrada lungo un terrapieno per poi schiantarsi contro un albero. Si direbbe che sia stato un brutto incidente, ma in realtà Malcolm ha pianificato tutto. Dopo lo schianto, Malcolm scende dall'auto e osserva il veicolo distrutto, lasciando Claire stordita sul sedile del passeggero. Ma Malcolm è stato incauto perché quella remota strada di campagna in realtà è piuttosto trafficata. Molte persone in realtà hanno visto l'incidente e si fermano per prestare aiuto a Malcolm e chiedergli se, in macchina, ci sia qualcun'altra in difficoltà. Ma lui risponde che non gli serve alcun soccorso e che è da solo. Quando gli altri conducenti si allontanano, Malcolm prende la tannica di benzina, la rovescia sull'auto e le dà fuoco. Mentre la macchina è in balia dell'incendio, un passante sopraggiunge e intravede qualcuno sul sedile del passeggero. Ma ormai, per la povera Claire, è troppo tardi. Le fiamme hanno invaso l'auto e lei perde la vita. Dopo la morte della moglie, Malcolm viene portato alla stazione di polizia per l'interrogatorio e ripete che si è trattato di un incidente. Tuttavia, gli agenti in realtà sospettano di lui perché qualcosa proprio non quadra. Diversi testimoni affermano che Malcolm aveva espressamente detto loro che non c'era nessun altro in macchina. Poi il passante sopraggiunto durante l'incendio dichiara che Malcolm non aveva nemmeno tentato di estrarre la moglie dall'automobile e che non sembrava molto preoccupato per le sue sorti. Elemento altrettanto sospetto è che non si evidenziano segni di sbandata sulla strada, che invece dovrebbero notarsi se Malcolm avesse davvero perso il controllo dell'auto. Inoltre, lo schianto, per come sia configurato, non può avere intrappolato Claire in macchina. Dunque, perché lei non era stata in grado di scendere dalla vettura? E perché il veicolo ha preso fuoco visto che l'incidente non era stato così grave? Dei vigili del fuoco, tra l'altro, confermano che è impossibile che l'auto si sia incendiata così da sola. E non è un dettaglio irrilevante che sulla scena dell'incidente è stata trovata una tannica di benzina. Insomma, converrete con me che non ci vuole un guru illuminato per comprendere come sono andati realmente i fatti. Ma, indovinate un po', Malcolm chiede aiuto al suo paparino potente e le accuse vengono ritirate. L'indagine su di lui viene prontamente archiviata ed è libero di andarsene. Malcolm si presenta al funerale di Claire per interpretare al meglio il ruolo del marito in lutto e indossa anche inutilmente un tutore per il collo, giusto per suscitare compassione. In realtà sta già pregustando la sua vedovanza e dopo la funzione riesce a conseguire circa 200.000 sterline come beneficio legato alle polizze sulla vita stipulate. Nessuno gli fa domande sul perché ne avesse sottoscritte ben dodici, ovviamente falsificando la firma della moglie. Il primo costoso regalo che Malcolm si concede grazie ai soldi dell'assicurazione è uno yacht. Poche settimane dopo la morte di Claire lui va già in giro a fare nuovi incontri e porta le donne conosciute negli hotel di lusso, nei ristoranti stellati, a bordo del suo yacht o della sua nuovissima e fiammante Range Rover. Una cosa assolutamente disgustosa che mi fa ribollire il sangue nelle vene è che ha addirittura il coraggio di portare le sue frequentatrici sulla tomba di Claire e di recitare la parte del vedovo affranto. Dice loro che il suo cuore è stravolto dalle crepe per la perdita della sua dolcissima e amata Claire. In ogni caso il ricco bottino che Malcolm ha conquistato uccidendo la moglie e incassando i soldi delle polizze assicurative si sta già dissipando a causa di questo sfoggio di benessere con cui vuole sedurre le donne. Dopo aver prosciugato ogni risorsa Malcolm si mette in cerca della sua prossima vittima. È il maggio del 1996 e Malcolm ha 37 anni quando incontra Felicity Dram. Felicity proviene da un'ottima famiglia della Nuova Zelanda e incontra Malcolm mentre sono entrambi in viaggio per lavoro a Riyadh in Arabia Saudita. Scambiano quattro chiacchiere e lui capisce subito che lei è una donna di successo, è benestante, svolge una carriera promettente come infermiera di oncologia presso l'ospedale King Fad. Insomma è realizzata e indipendente. Per Malcolm Felicity diventa un obiettivo, deve conquistarla facendola innamorare follemente di lui. Così si comporta esattamente come aveva fatto con Claire, affascina Felicity con la sua finta personalità, le fa credere di essere l'uomo dei sogni e lei si convince di vivere una fantastica storia d'amore e passione. In pochi mesi i due si fidanzano e nel giro di un anno si sposano in Nuova Zelanda. Appena dopo il matrimonio Malcolm si spoglia della personalità fittizia e mostra la sua vera natura. Fin dalla prima notte di luna di miele e Malcolm somministra a Felicity gli stessi farmaci che dava Claire. Le porta una tazza di tè, lei la beve ed improvviso si sente estordita, sonnata e accusa un po' di mal di testa. Così si mette a letto e dorme per 36 ore consecutive. Se almeno all'inizio possiamo supporre che Malcolm non volesse fare del male a Claire perché aveva iniziato a danneggiarla solo quando lei era diventata un problema per lui, è chiaro che con Felicity le sue cattive intenzioni emergono dal primo momento. Malcolm si adopera fin dal giorno dopo le nozze per ucciderla. Anche Felicity non ha idea di cosa le stia provocando questi sintomi, è sempre molto stanca, sonnolenta, smemorata e continua a chiedere a Malcolm cosa c'è che non va in me? Cosa mi sta succedendo? E lui come di consueto risponde che non c'è nulla di cui preoccuparsi, probabilmente si tratta solo di un virus e presto starà meglio. Le offre una bella tazza di tè per agevolare la sua ripresa. I mesi passano ma Felicity continua a stare male, quei sintomi destabilizzanti non vogliono proprio abbandonarla. Nel frattempo Malcolm non fa altro che tramare per mettere in atto l'omicidio, pensa come trarre profitto dalla morte della sua seconda moglie e come ucciderla e farla franca. Ma proprio mentre sta mettendo a punto il suo piano succede qualcosa che lo stravolge, ovvero Felicity rimane incinta e l'evento coglie Malcolm davvero di sorpresa. Quando Felicity gli dà la notizia si aspetta che il marito reagisca con felicità di leggere la commozione nei suoi occhi, ma ad animarli c'è soltanto la rabbia. Malcolm è infuriato, dice che non sono pronti ad avere un figlio, che non possono proprio permetterselo. Non può certo rivelare che il nascituro interviene a ostacolare il suo piano omicidio. Infatti nella propria mente Malcolm ha tracciato una linea immaginaria che decide di non valicare. Non vuole prendere in considerazione l'idea di uccidere il suo bambino. Di conseguenza il piano subisce un ritardo significativo, ma non viene mica annullato. Anche se Malcolm stavolta è felice di avere un figlio tutto sommato, durante tutta la gravidanza di Felicity continua a somministrarle regolarmente quei farmaci e quindi a farla stare male. Per fortuna il parto non presenta complicazioni, così Malcolm diventa padre. Dopo la nascita del bambino Felicity vuole tornare in Nuova Zelanda, comprare una casa lì, e Malcolm pensa che sia una fantastica idea perché avrà qualcos'altro da ereditare dopo averla uccisa. Non ha nemmeno un minimo ripensamento sul progetto di assassinare la madre del suo bambino appena nato. Nel frattempo ci sono altre attività a cui Malcolm si dedica come a piccare un incendio nella propria abitazione. Fortunatamente nessuno rimane ferito, ma le fiamme distruggono molti avere di Felicity e Malcolm che lui rivendica grazie all'assicurazione sulla casa. Come ricorderete Malcolm era solito a piccare incendi fin dall'età di 7 anni, ma nessuno sospetta che sia opera sua perché incidenti del genere alla fine possono capitare. In vista del trasferimento in Nuova Zelanda i coniugi decidono di custodire tutti i loro beni in un magazzino. Ma pensate un po'. Improvvisamente il deposito va a fuoco. E no, neanche questa è una coincidenza. Entrambi gli incidenti li ha piccati Malcolm, che fa richiesta di risarcimento alla compagnia con cui sono assicurati i proprietari del magazzino, perché molti dei suoi averi sono stati danneggiati dall'incendio, che si è esteso anche ai lotti vicini contenenti beni di altre persone. Malcolm chiede alla compagnia di assicurazione un rimborso di 68.000 sterline e un dipendente, che in realtà non ha colpe, viene accusato di aver appiccato l'incendio e viene licenziato. Fortunatamente anche in quest'ultimo incendio nessuno è rimasto ferito, dopodiché la coppia e il bimbo si trasferiscono in Nuova Zelanda. Inizialmente vivono dai genitori di Felicity e intanto cercano una casa adatta loro. Presto individuano la casa dei loro sogni, ma non l'hanno nemmeno comprata che un incendio improvviso la investe. Questo è l'ennesimo che Malcolm appicca stavolta per ritardare la vendita dell'immobile, dato che non ha ancora accumulato abbastanza soldi. Poi anche nella casa dei genitori di Felicity scopia un incendio. Indovinate chi ne è responsabile? Malcolm ovviamente! Si ipotizza che abbia dato fuoco alla dimora dei suoceri nel tentativo di uccidere Felicity, ma fortunatamente suo padre si è svegliato prima che le fiamme divampassero ed è riuscito a spegnerle. È proprio lui che, mentre il genero rivendica i soldi dell'assicurazione a destra e a manca, comincia a guardarlo con sospetto. Certo, il padre di Felicity non si rende conto di quanto sia crudele Malcolm. Ovviamente non immagina che abbia intenzione di uccidere sua figlia, ma ormai lo considera un tipo losco. Malcolm intanto continua a rimandare l'acquisto di una nuova casa, dicendo a Felicity «Oh, molto presto arriveranno i soldi dalla Scozia!» L'ennesima bugia, per prendere tempo mentre melita su come derubarla, ammazzarla e scappare. Fraccendola franca. Il primo tentativo accertato di ucciderla, Malcolm lo compie mentre guida a tutta velocità in autostrada, con Felicity seduta sul sedile del passeggero. Suo marito le dice che il volante risulta stranamente duro, che lo sterzo non funziona più. Malcolm inizia a sbandare, guida a zigzag, ma Felicity ha la prontezza di afferrare il volante e riportare la macchina sul lato corretto della strada. A lei sembra che in realtà lo sterzo funzioni, quindi perché lui aveva iniziato a sbandare in quel modo? L'idea inconfessabile di Malcolm era quella di sterzare e far schiantare la macchina da qualche parte, ma è stato colto di sorpresa dalla lucidità di Felicity. Ora Malcolm si porta le mani al petto e dice che gli fa male, come se stesse per subire un infarto. La moglie gli propone che sia lei a guidare l'auto, ma lui si rifiuta e Felicity lo esorta a raggiungere un ospedale. I due vi si recano senza motivo in realtà, dato che Malcolm non sta accusando alcun dolore al petto e il suo cuore non è assolutamente a rischio. Questo primo tentativo di omicidio non va quindi in porto, ma Malcolm non si ferma, non si arrende. Un pomeriggio dice a Felicity che vuole fare un picnic con lei e il figlio. Vi ricordo che Malcolm somministra quotidianamente alla moglie quei farmaci sedativi e ipnotici, quindi per la maggior parte del tempo lei è assonnata, disorientata e confusa. Tuttavia si è quasi rassegnata alla presenza di questi sintomi, dunque accetta ugualmente di fare il picnic. Quando si sistemano in una zona rurale a nord di Oakland, Malcolm dice a Felicity che vuole portare il bambino a fare una passeggiata per tranquillizzarlo e calmarlo un po'. Lei non si è resa conto che lui ha posizionato una grossa tannica di benzina nel bagagliaio dell'auto, poco prima di uscire per il picnic. Malcolm sta progettando di dare fuoco alla macchina con sua moglie all'interno. Di nuovo. Poco prima Felicity aveva bevuto da una bottiglietta d'acqua che le aveva passato suo marito e presto cede al sonno. Tuttavia mentre Malcolm inizia a versare la benzina nell'auto, il padre di Felicity comincia a chiamarle insistentemente e lei per fortuna si sveglia. Si ritrova sul sedile del passeggeri in mezzo a una zona forestale e risponde. Le parole che sente dall'altra parte del telefono sono a dir poco allarmanti. Suo padre le dice Felicity non ascoltare niente di ciò che ti dice Malcolm, devi tornare a casa immediatamente. È un'emergenza. Lei percepisce che il padre è in preda al panico e come risvegliata anche dal torpore urla al marito. Dobbiamo tornare subito a casa, è un'emergenza, mio padre ha bisogno di me. Malcolm si rende conto che il suo piano è fallito e non può fare altro che riportare la moglie a casa. Come già vi ho detto, il padre di Felicity aveva iniziato a nutrire dei forti sospetti nei confronti di Malcolm, ma stavolta ha effettivamente scoperto il suo piano omicida. Sa che progetta di uccidere sua figlia per ottenere dei soldi dall'assicurazione. Come ha fatto a scoprirlo? Beh, mentre la coppia era in gita per il picnic, il padre di Felicity ha dato una sbircettina a diversi documenti indirizzati a Malcolm. Consultando gli estretti conto ha appreso che Malcolm sta trasferendo 200.000 dollari dal conto di Felicity al proprio. Il suo acero si imbatte in molti altri documenti perché Malcolm aveva stipulato dozzine di polizze assicurative sulla vita di Felicity. Infine trova due biglietti aerei per la Scozia, uno per Malcolm e uno per suo figlio. Nessuno per Felicity. In pratica il padre di Felicity ha svelato i piani di Malcolm appena in tempo, salvando così la vita di sua figlia. Appena Felicity torna a casa, suo padre affronta immediatamente Malcolm. Lui, consapevole di essere stato colto in flagrante, deve rinunciare al progetto di uccidere la moglie. Quale sarà il suo piano B? Ebbene, decide di scappare il più velocemente possibile per tornare in Scozia, ma prima di fuggire dice a Felicity che ho dato una bella vita e un figlio. Staresti morta felice. Ora, leggendo queste poche righe che mi hanno lasciata senza parole, ho avuto l'impressione che Malcolm volesse pure che Felicity gli fosse segrata. Magari starete pensando che questo caso si concluda qui, visto che Malcolm è stato scoperto. Insomma, stavolta non può farla franca, no? E invece sì, purtroppo Malcolm riesce a fuggire dalla Nuova Zelanda e a tornare in Scozia prima che la polizia raccolga prove sufficienti per arrestarlo. Felicity ora ha due opportunità. Farlo estradare in Nuova Zelanda perché venga sottoposto al processo o optare per il blocco del suo passaporto in modo che Malcolm non possa mai più rientrare in Nuova Zelanda. Felicity in verità sente di non avere alternativa. Se dopo il processo Malcolm sarà ritenuto non colpevole, avrà la libertà di riavvicinarsi a Felicity e a suo figlio. E questo lei proprio non vuole permetterlo, ovviamente. Dunque sceglie di far bloccare il suo passaporto così in ogni caso, al di là dell'esito della sentenza, si assicura che Malcolm non potrà rientrare in contatto con lei e il bambino. Inoltre per limitare il rischio che Malcolm si accanisca contro un'altra vittima, si rifiuta di divorziare da lui. Tuttavia la presa di posizione di Felicity non impedisce all'ostinato Malcolm di puntare a un nuovo obiettivo. Infatti mette gli occhi su una donna di 41 anni di nome Simone Banerjee. Lei lavora come infermiera nello stesso ospedale in cui Malcolm è riuscito a farsi assumere una volta tornato in Scozia. Ma all'inizio Simone non è interessata a lui. Tuttavia Malcolm non si lascia scoraggiare e è deciso a renderla la sua prossima vittima, perché anche Simone è una donna piuttosto ricca. Per conquistarla Malcolm non gioca la solita carta dell'uomo affascinante, ma al contrario le dice di avere una leucemia terminale. Finge di sottoporsi alla chimioterapia, si rase i capelli e le sopracciglia. Il suo gesto, a mio avviso, è come una coltellata inferta a tutti coloro che affrontano davvero una battaglia disperata contro il cancro. Incredibilmente però il suo piano funziona perché attraverso la manipolazione emotiva fa sì che Simone si innamori di lui. Non passa molto tempo prima che Malcolm le proponga di sposarlo e lei ovviamente non sa che lui non ha mai divorziato da Felicity. Dovete sapere che Malcolm le compra anche un bellissimo anello di fidanzamento dal valore di 6.000 sterline. E voi vi chiederete, ma dove diamine gli ha presi questi soldi? Ebbene, purtroppo dovete sapere che il trasferimento di denaro pari a 200.000 dollari dal conto di Felicity a quello di Malcolm, scoperto dal suocero, è andato a buon fine. Quindi lui è riuscito a rubarle quei soldi. Malcolm riesce addirittura a convincere Simone a cambiare il suo testamento e lasciargli tutto il suo patrimonio pari a 300.000 sterline. Mentre il solito piano criminale prende forma, Malcolm però non sa che la polizia si è messa sulle sue tracce e lo sta tenendo d'occhio. Felicity infatti non ha alcuna intenzione di fargliela passare liscia, così ha fatto una soffiata alla polizia scozzese che fortunatamente ha preso sul serio le sue accuse. La polizia a questo punto è convinta al 100% che Malcolm intenda uccidere Simone, ma non ha prove sufficienti per accusarlo. Malcolm intanto progetta di fare una gita in barca durante la quale assassinare Simone. Danneggia il suo giubbotto di salvataggio con la prospettiva di inscenare un annegamento accidentale, ma gli agenti che lo sorvegliano arrivano nel cantiere navale per mostrargli la propria presenza, una scelta che blocca Malcolm e quindi salva la vita di Simone. Dopo un po' di tempo finalmente la polizia raccoglie prove sufficienti per informare Simone che Malcolm sta progettando di ucciderla. Lei alla notizia rimane completamente stordita. All'inizio neanche ci crede o forse non vuole crederci. Fa troppo male crederci. Tuttavia riflettendo si rende conto che i nodi vengono al pettine e individua la ghiacciante motivazione dietro le stranezze o le pretese di Malcolm. Lui aveva fatto in modo che lei una volta morta gli uccidesse tutti i suoi averi tramite testamento. Inoltre inventava sempre scuse per rimandare il matrimonio. Quando Simone affronta Malcolm e gli chiede spiegazioni, lui scappa di nuovo. La polizia al momento, nonostante abbia raccolto prove sufficienti per mettere in guardia Simone, non ha ancora ottenuto quelle decisive che occorrono per accusare Malcolm e portarlo in tribunale. Così gli investigatori decidono di riaprire le indagini sulla morte di Claire, la prima moglie di Malcolm, con la cosiddetta Operation Filed, lanciata nel 2008. Finalmente, quattordici anni dopo il suo decesso, Malcolm Webster, ormai cinquantenne, viene accusato di averla uccisa. Poi si guadagna anche l'accusa relativa al tentato omicidio della sua seconda moglie Felicity. Le indagini su Malcolm nel complesso sono durate più di cinque anni e più di mille persone sono state coinvolte in qualità di testimoni. Quello di Malcolm è anche il processo per un singolo individuo più lungo della storia giudiziaria scozzese. Fortunatamente alla fine del processo Malcolm viene dichiarato colpevole e condannato all'ergastolo con un minimo di trent'anni. Ed era ora. Quando ho cercato informazioni su questo caso sono rimasta parecchio stupita del tempo trascorso prima che Malcolm finisse dietro le sbarre. Se ricordate, ben prima dell'omicidio di Claire si sospettava che fosse coinvolto nelle morti impreviste di quei bambini ricoverati nell'ospedale di Abu Dhabi, ma non è mai stato accusato dei loro decessi e mi risulta che non sia mai stata neanche riaperta un'indagine. E il motivo principale per cui Malcolm è riuscito a farla franca così a lungo risiede nel potere del suo anaffettivo ma utilissimo papà. Si sa con certezza che Alexander ha contattato la polizia scozzese dopo la morte di Claire ed è noto che si era rivolto pure al ministro degli esteri per allontanare Malcolm da Abu Dhabi a seguito delle morti sospette dei piccoli pazienti. Ma il padre di Malcolm è venuto a mancare prima che lui fosse arrestato, quindi il suo coinvolgimento agli occhi della legge non sarà mai pienamente inconfutabile. Eppure non ci sono dubbi che senza l'intervento di Alexander Malcolm sarebbe finito in cella molto, ma molto prima. Tra l'altro dopo la sua incarcerazione si diffondono degli articoli che attribuiscono a Malcolm la responsabilità di altri omicidi. Sussiste il forte sospetto che sia collegato a un delitto avvenuto in Australia, ma al riguardo dettagli e fonti scarseggiano purtroppo. Onestamente a me non stupirebbe se saltassero fuori altre vittime. Magari non sono persone che Malcolm ha ucciso, ma potrebbe essersi approfittato di loro rubandole del denaro. Ricordate il primo lavoro svolto da Malcolm? Era infermiere in una casa di cura per anziani, soggetti che sono molto spesso vulnerabili. Questo potrebbe significare che Malcolm inizialmente aveva individuato gli anziani come le vittime prescelte per derubarle o convincerle a inserirlo nel loro testamento. Poi però ha incontrato Claire. Si è approfittato di lei, l'ha uccisa e l'ha fatta franca. Riuscendo a compiere il suo crimine senza subire conseguenze, probabilmente Malcolm si è convinto di poterlo replicare con altre donne. Ad escare il loro era più redditizio rispetto a derubare degli anziani. A mio avviso questo caso, oltre ad amareggiare per l'evidente scaltrezza e brutalità del protagonista, ci fa riflettere su quanto l'avidità e gli inganni riescano abilmente a camuffarsi in amore. Questo per confondere il prossimo, convincendolo ad aprire un varco nel suo cuore. Penso che ne derivi l'esigenza di scrutare sempre a fondo, oltre le apparenze. Detto questo ho finito di parlare in questo video, ho finito di parlare di questo caso che onestamente non conoscevo e ve lo dico chiaramente, Malcolm è uno psicopatico. È uno psicopatico perfetto, letteralmente. Quindi le situazioni sono indubbiamente riprovevoli. Indubbiamente ha avuto un grosso aiuto dal suo papi che non l'ha mai degnato di uno sguardo quando era bambino, ma è sempre stato pronto a toglierlo dai guai, a tirarlo fuori dai guai da grande. Io non ne capisco il motivo onestamente. Però forse non voleva che suo figlio andasse in galera perché altrimenti ci avrebbe rimesso la sua immagine. Inizio a pensare che sia proprio così, ma non ne sono certa. E niente, voi fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso, fatemi sapere se lo conoscevate già e insomma ditemi ciò che volete qui sotto nei commenti. Come al solito, come vi dico sempre, ci becchiamo qui sotto nei commenti. Io vi leggerò tutti. Nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Grazie a tutti!